Oggi voglio spiegarvi qualcosa in più delle nostre sedie pieghevoli, soprattutto i vari processi di lavorazione. Noi partiamo dal legno a mastello di frassino e lo assembliamo per creare lo schienale. Successivamente questo schienale viene applicato e lavorato sotto il centro di lavoro, che è la macchina a controllo che praticamente toglie tutta la parte grossolana del legno. Una volta lavorata quel pezzo, i ragazzi procedono a sgrassarlo e soprattutto a carteggiarlo a mano in modo da non avere nessun tipo di spigolo vivo in nessuna parte della sedia. La parte più interessante delle nostre sedie pieghevoli è proprio il montaggio, perché tutta la parte morbida, quindi quella che sfrutterete di più, è la seduta oppure lo schienale e viene realizzata unicamente a mano dai nostri ragazzi. Abbiamo scelto un'imbottitura che è sufficientemente morbida ma allo stesso tempo resistente e viene fessata su questa struttura in HPL, che è un materiale molto igienico e facilissimo da pulire. Ogni seduta viene realizzata con l'ecopelle che scegliete e del colore che scegliete, quindi praticamente non esisterà mai un'ecopelle identica all'altra o un sellino o una sedia identica all'altra. I nostri ragazzi si occupano principalmente di garantire la qualità e la funzionalità delle nostre sedie e qualsiasi prodotto prima di uscire dalla nostra fabbrica viene collaudato ripetutamente. Io vi garantisco che queste sedie sono tra le più comode che io abbia mai provato, ma mi piacerebbe farvele provare, quindi vi invito a prenotare un appuntamento se siete qua vicini oppure una videochiamata.